Buongiorno, buona domenica a tutti voi ben trovati con la rassegna stampa di Teleregione Molise. Come di consueto, con l'aiuto della grafica, facciamo in apertura il punto sulla situazione contagi in Regione. Stando all'ultimo bollettino diramato dall'ASREM, sono 16 i nuovi contagi a fronte di 574 tamponi refertati, dunque tasso di positività si attesta intorno al 2,8%. E ci sono anche due nuovi ricoveri, si tratta di una 62enne di Spinete e di un 77enne di Isernia. E dunque il numero dei ricoveri al Cardarelli di Campobasso sale a 14, di cui 13 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. I nuovi contagi si riferiscono, per la maggioranza dei casi, alla città di Termoli. Bene, cambiamo ora argomento. Da domani, come sapete, scattano le nuove norme per accedere a ristoranti, teatri e palestre. Green Pass base e rafforzato saranno sempre più indispensabili. Il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, chiede collaborazione. Il servizio è di Valentina Ciarlante. Ci siamo. Tra qualche ora la vita dei Novax diventerà difficoltosa. Come previsto dal Decreto Legge 172, per condurre una vita sociale, occorrerà il Super Green Pass, che verrà rilasciato solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid e che avrà validità di nove mesi. Il Green Pass base, che si ottiene con un tampone molecolare valido 72 ore o un antigenico 48 ore, rimane. E ora sarà previsto anche per usufruire dei mezzi pubblici, urbani e non, per recarsi in albergo, per entrare negli spogliatoi di palestre e piscine, per il trasporto ferroviario regionale. Si accede a teatri, discoteche, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla, solo con certificazione rafforzata. E sarà proprio nei locali, in particolare con i della Movida, ma anche in pub e ristoranti, che si concentrerà l'azione delle forze dell'ordine, grazie al piano sicurezza approvato dalla Prefettura di Campobasso nei giorni scorsi. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza effettueranno controlli a campione, con l'ausilio del personale d'ufficio, che fino al 15 gennaio almeno, verrà destinato a questo servizio specifico. Il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini. Non siamo in uno stato di polizia, però siamo in un momento in cui è importante capire il valore della regola. Ci sono queste attività che sono soggette al controllo, rispettiamo la regola. Non è una necessità di andare in questi locali, se uno non ha il Green Pass non ci va, e se viene beccato senza Green Pass viene sanzionato. Non è il gusto di sanzionare, l'obiettivo è far capire qual è il valore della regola. Non perdiamo quello che ci siamo conquistati in questi anni, anni di sacrificio, per un 15-20 giorni di festeggiamenti. Gli avventori e i gestori dei locali rischiano da 400 a 1000 euro di multa, se trovati senza Green Pass, più sanzioni amministrative. Le regole vanno rispettate per il bene comune, l'appello del questore. Non solo la Polizia di Stato, ma anche le altre forze di Polizia, impiegheranno personale d'ufficio in questi specifici servizi. Sono direttive del Ministro degli Interni che ha detto cercate di far uscire il personale dagli uffici per avere più patuglie su strada. Non solo la sanzione amministrativa a chi è sprovvisto di Green Pass, ma anche al titolare dell'esercizio pubblico. Una sanzione, ma poi anche la chiusura dell'esercizio commerciale. Ed ora procediamo con la lettura dei quotidiani. Iniziamo dal locale Primo Piano Molise. Il Cardarelli si riempie di Novax, ricoverate ieri altre due persone. Si tratta di una 62enne di Spinete, di un 77enne di Isernia. Sale così a 12 il numero dei pazienti ospedalizzati non immunizzati. Nel bollettino anche un dimesso vaccinato e 16 positivi. Un anno fa invece due morti e 36 contagi. Agricoltori e allevatori allo stremo scende in campo col diretti. Martedì presidio all'ingresso di Castelpizzuto. Basta chiacchiere, servono soluzioni definitive. Si parla anche di lotto zero. Cibotti, un enorme spreco di denaro pubblico. Il Vescovo di Isernia scrive alle parti in causa, opera inopportuna. Troviamo poi una notizia che riguarda Guglionesi. Domani si torna in classe, riapre anche la mensa scolastica. Dunque il peggio sembra essere passato dopo tutti i contagi nella materna e nella primaria. Che appunto domani tornano a scuola. La stretta, il via, il super green pass, le organizzazioni del commercio. Regole necessarie e da rispettare. Sanità, strutture antisismiche e cure a casa dal PNRR 50,5 milioni. Rotello, Galeotta, una foto postata su Facebook, latitante molisano arrestato in Belgio. Mirabello, terreni e case al mare, ma percepivano il reddito. Nei guai un'intera famiglia dovrà restituire 19 mila euro. Il punto di oggi su primo piano Molise, a firma di Rita Iacobucci, femminicidio, inderogabile necessità di una svolta. Mentre per quanto riguarda lo sport, i richiami sotto la testata, Lega Pro, un campo basso d'assalto nella tana della Vibonese. Rosso-blu, carichi. Futsal, A2, CLN, Cus Molise, assegno. In serie B, sorride Venafro, Chaminade, K.O. Pallacanestro, A1, femminile. La corazzata Schio, sulla strada della Magnolia. All'arena. Passiamo adesso alla stampa nazionale. Leggiamo insieme i titoli del messaggero. Superpass, anche al lavoro. Questo è il titolo di oggi. Intervista Ricciardi. Omicron preoccupa vaccino obbligatorio se il contagio cresce. Roma, primo giorno di shopping con le mascherine di vieti violati solo dai Novax in corteo. Agliardi e il rifiuto del vaccino in famiglia. Il dolore di avere una mamma che non vuole ascoltare. La scienza. Macron dovrà vedersele anche con l'Aidalgo. La corsa delle donne per l'Eliseo. La Pécresse contro Marine Le Pen. PNRR. Opere ferme. I fondi ci sono. Mancano i bandi. Gli enti locali in ritardo. I cantieri sono a rischio. Al palo. Tirrenica e alta velocità. Salerno-Reggio. C'è anche lo sport. Il giorno più lungo di Murigno. Pesante KO. De Bacl della Roma con l'Inter che finisce 0-3. Totti torna in tribuna. Dal messaggero. Vediamo adesso insieme i titoli del Corriere della Sera. L'Italia del Super Green Pass. Da domani le nuove regole. Al ristorante e al cinema. Se vaccinati o guariti. Il virus, il tampone negativo, servirà solo per lavoro, trasporti e alberghi, ricoveri ancora in crescita. Quarta dose. Pensiamo a fare la terza il monito dal CTS. Estremo Oriente. La lezione sulla pandemia all'Europa. Meno casi e meno vittime. Le manovre al centro. Totti. Renzi. Tanti punti in comune. I partiti e la corsa al Colle. Grazie Pablito. Un anno di lettere all'eroe del Mundial. La storia. La famiglia. Ricordi. I missaggi che non finiscono appunto su Paolo Rossi. Morto il 9 dicembre di un anno fa. E dal Corriere della Sera vediamo adesso i titoli della Repubblica. Super Green Pass da domani. L'Italia va a tre velocità. Liberi vaccinati e guariti. Restrizioni per chi ha il tampone. Quasi tutto vietato ai no pass. Si parla di politica. Idea cartabia per mandare Draghi al Colle. Rompere il tabù di una donna a Palazzo Chigi. L'Unione Europea a fianco dell'Ucraina. L'alto commissario per la politica estera. In caso di attacco armato ci saranno conseguenze per Mosca. E appunto le foto satellitari dell'escalation militare sul confine. Martedì un summit virtuale tra Biden e Putin. Gli USA russi pronti all'invasione. Il Cremlino vogliono provocare. L'intervista Maggioni al TG1. Ho abolito il pastone. C'è anche lo sport. Il Napoli capitola e cede lo scettro. Milan in testa. L'Inter umilia. Murigno. E poi c'è anche lo sci per Sofia Goggia. È tutto in discesa. Sei vittorie di fila. La frattura è solo un ricordo. Vediamo adesso invece i titoli del Fatto Quotidiano insieme. Il Fatto Quotidiano di oggi, di questa domenica 5 dicembre, titola appunto sulla politica. Salvini in pallina Berlusconi e Berlusconi minaccia Draghi. Tiro al bersaglio. Il leghista garantisce i voti. Al forzista solo al primo giro per bruciarlo. Tajani avverte il capo del governo se va lui al colle elezioni. Già 136 mila firme in 5 giorni per la petizione del fatto no all'ex cavaliere. Aderisce Micromega. Nel taglio alto del Fatto Quotidiano la Juve salvò i conti anche con plusvalenze negative. Il giro di figurine per aggiustare bilanci e debiti. Mentre nei titoli di spalla, ma che quarta dose, ci sarà ogni anno il richiamo. Parla Francesco Vaia. Prima e dopo la cura. I fogli di destra da nemici a tifosi delle restrizioni. Il presidente di Ita, Altavilla. Il rude ristrutturatore che fa solo flop. Consulente di Colao. Fortunato, altro migliore nei guai. Evasione fiscale. Bene, e adesso vediamo insieme i titoli del quotidiano economico. Il sole 24 ore. Nuova IRPEF. Ecco chi ci guadagna. Le quattro aliquote al reddito annuo di 40.000 euro. Beneficio massimo di 944,8 euro. Oltre invece 75.000. Taglio di 90. Prestiti allo studio. Nuove garanzie. Crediti alle imprese. Tra tamponi a scuola e i presidi serve l'aiuto dell'esercito. Il reportage del sole 24 ore, la Kabul talebana e il flaggello della carestia. L'allarme di Save the Children in Afghanistan. 14 milioni di bambini rischiano di soffrire la fame nei prossimi mesi. Gentiloni. L'ok di Fitch dimostra la direzione giusta dell'Italia. Ed ora vediamo insieme lo sport. Con i titoli della Gazzetta Sportiva. Sorpasso alla milanese. Questo è il titolo che campeggia in prima pagina. Milan primo. Inter a meno uno. Travolto Morigno. Impressionante elezione alla Roma. 0 a 3. Cialanoglu colpisce da calcio d'angolo. Segna pure l'ex Dzeko. Ma non esulta. Nel taglio alto arriva anche la Dea. Il Napoli perde. Partita e vetta. Gol ribaltoni. 2 a 3. Gasperini frena. Scudetto. Quando saremo in testa. Al Maradona uno show e un verdetto. Atalanta da titolo. Nel taglio basso della Gazzetta Sportiva. Solo sette reti allo stadium. La Juve con Dybala morata per guarire dal mal di gol. C'è il Genoa. Shevchenko è in emergenza. E poi lo sci in arresta irresistibile. Sofia. La Goggia concede il bis in discesa. Lake Lewis. Verstappen va a sbattere. Che occasione per Hamilton. Formula 1 in Arabia alle 18.30. Lewis in pole. mentre Leclerc è quarto. Questa era la nostra ultima notizia. Prima dei saluti vediamo insieme il palinsesto di questa domenica. che vede alle 11.00. Viva la musica con Gigione. Ore 12.00 Punto Verde. 13.00 Camminando Molise. Alle 14.00 il TG News. 16.00 Conto alla Rovescia. 18.30 Camminando Molise. 19.30 seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 21.00 in prima serata Punto Verde. E alle 23.00 l'ultima edizione del nostro telegiornale. Con questo è tutto. Vi auguro una buona giornata e grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.